Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. Questo è il terzo, sarà quello di oggi. E niente di che, che poi oggi sono andata a comprare il pane e poi metteremo un po' a posto perché ieri abbiamo dovuto togliere tutto. E niente di che, che poi c'è un video praticamente di San Sigini in cui mamma fa vedere le sue decorazioni e anche le mezie. Sicuramente, forse non mi ricordo adesso. Comunque sono anche mezza stanca perché posso svegliare dalle tre per via di un incidente. E niente di che, che poi tra un po' forse metto un'ora al letto, così almeno riposo un po'. Allora, per oggi è tutto. Lasciate like e iscrivetevi al canale se anche voi, e se siete stanchi quanto me. Da, ah, c'è bianchi out.